Ciao e benvenuto nel mio canale youtube a quale ti invito ad iscriverti se non è ancora fatto per non perderti i prossimi video in uscita. Da pochi giorni è iniziata sulle due una nuova serie tv molto interessante, Noi siamo leggenda ed è questa una serie molto diversa rispetto a quella che siamo abituati a vedere ultimamente ed è la storia di cinque ragazze che scoprono di avere cinque poteri straordinari. Il protagonista della serie è Massimo, questo ragazzo che improvvisamente si trova senza la madre e in questa occasione che il seguito alla rabbia, al dolore, all'ira riesce a scoprire il suo potere che sono queste mani incandescenti, intorno alle sue mani si forma un fuoco e con queste mani riesce a piegare i metalli, a sfondare i muri, quindi veramente un potere straordinario. Nei primi due episodi che sono andati in onda stiamo conoscendo tutti i vari protagonisti e scoprendo anche insieme a loro qual è il loro potere, perché loro effettivamente non sanno di possedere un potere e quindi è anche bello e interessante vedere come ognuno di loro scopre il proprio potere. Innanzitutto voglio chiederti se hai visto anche tu i primi due episodi dati in onda e se è una serie che insomma ti sta prendendo, ti sta piacendo e qual è il tuo potere preferito. Ce ne sono diversi appunto come ad esempio quello di prendere le sembianze, il volto, il corpo di chiunque voglia e poi c'è quello che riesce a portare i viti morti, chi riesce invece a riavvolgere il tempo. Insomma ci sono veramente poteri diversi tra loro però ognuno è un potere veramente straordinario. Scrivi le tue ipotesi e la tua recensione insomma se siete piaciute o meno e questa serie se ti sta prendendo ti raccomando scrivi tutto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!